Qual è l'ultima cosa che ricordi? Un lampo all'improvviso. E poi sono caduto giù. Voi chi siete? Io dovevo essere giustiziato due giorni fa. Io ero un soldato. Sì, anch'io. Corpi speciali. Mi accusò. Dobbiamo lavorare come una squadra. Ti sembra un gruppo di persone che possono lavorare insieme, questo? Loro possono sentirci. Fiutarci. E vederci. Siamo stati scelti. Scelti per cosa? Questo pianeta è come una riserva di caccia. E noi siamo le prede. Terry! Loro imparano. Si adattano. Vuoi sopravvivere? Datti da fare. Chi comanda adesso? Come li ammazziamo? In qualunque modo. Chi comanda adesso? Grazie a tutti.